Ciao amici, ben ritrovati, eccoci qua oggi di nuovo a dedicare il video oggi a Zampi Cristina che mi ha chiesto un turista per sempre. Ciao Cristina, penso che il tuo nome proprio è Cristina. Ok, bene, allora mi ha chiesto un turista per sempre dai 5 e sono due giochi, quanto vedo io. Allora, vediamo, incominciamo, dobbiamo trattare le nostre valigie, vediamo che numeri abbiamo. Primo numero, buona visione a tutti, 39, 33, 31 e 34, tutta la 31 abbiamo. Ok, allora prima sabaccina, abbiamo, troviamo un 19, troppo basso, segue 11, poi abbiamo 25, niente, 41 costa troppo alto, un turista, ce ne servono due. Ok, poi abbiamo un 37, che non abbiamo, un 40, che non c'è, un 32 non c'è, abbiamo 31, no, 15 e 45, niente, con i numeri non abbiamo fatto niente. caro Cristina, ma vediamo un po' con il secondo gioco, che ci devono uscire due simboli uguali, e c'è due simboli questi qua, non uguali, due simboli questi, simboli vincenti, simboli fortunati, diciamo. Allora, primo simboli, il sole, secondo il mappamonti, ok, vediamo un po' se troviamo qualcosa. C'è l'avena, un cocktail, e il ristorante, niente, Cristina, mi dispiace ma non abbiamo fatto niente, questo bigliettino, ecco, niente, ti ringrazio per la richiesta, comunque, niente, continuo a seguirmi come vuoi tutti, e vi auguro una buona giornata, a voi licenziù, e tu mettevi se non mi chiede ancora rispetto, ok, allora, ciao a tutti, un bacio, un bacio alla luna, alla prossima.